Come ogni anno, il giorno 5 giugno si celebra nel mondo la giornata mondiale dell'ambiente istituita dall'ONU per ricordare la conferenza di Stoccolma sull'ambiente umano del 1972, nel corso della quale prese forma il programma Ambiente delle Nazioni Unite che da allora promuove la giornata a livello mondiale. Il comune di Agropoli da sempre sensibile alle problematiche per la salvaguardia dell'ambiente, favorendo tutte le iniziative che vi prestano particolare attenzione. Infatti, dopo l'esperienza dello scorso anno nelle acque antistanti il comune di Amalfi, la FIP SAS Nazionale ha individuato quale sito per lo svolgimento della seconda edizione dell'evento Puli fondali le acque antistanti il comune di Agropoli. L'evento in questione ha l'obiettivo di scovare il sommerso di ripulire simbolicamente i fondali di un tratto di costa salernitana tra i più suggestivi e dalle acque trasparenti, grazie all'opera dei subacquei tesserati per le associazioni affiliate FIP SAS della provincia di Salerno. Si tratta dunque di un'operazione altamente meritoria finalizzata da attenzionare al grande pubblico l'inquinamento da rifiuti solidi cagionato da un corretto smaltimento. La pesca della plastica e gli altri rifiuti solidi che nell'incuria generale riposano sul fondo del mare è un'operazione di grande rilievo e lungimiranza che vede protagonista la sezione provinciale FIP SAS di Salerno e le associazioni affiliate e coinvolte tra cui la Lega Navale di Agropoli che renderà disponibili le imbarcazioni necessarie alla raccolta rifiuti. L'ente agropolese metterà a disposizione per la riuscita dell'evento un camion e degli operatori ecologici necessari per il conferimento dei rifiuti solidi pescati dai sub e uno spazio nell'area portuale per almeno una decina di posti auto dove i subacquei possono fare base. Inoltre l'iniziativa oltre ad avere un'utilità sociale potrà contribuire a dare risalto alla città contribuendo alla promozione dei luoghi e delle peculiarità del nostro territorio in quanto godrà della copertura mediatica del TGR Campania che dedicherà un'ampia visibilità all'evento.